In uno spazio in cui non è più possibile capire che cos'è la giustizia, può capitare di tutto. Può capitare il conflitto, può capitare la differenza. Il modo concreto con cui ha funzionato la politica moderna è stato un continuo rimbalzo fra le istanze modernizzanti e le istanze di dominio che provengono dalle colonie. Perché quegli stessi liberali nella madrepatria o che fanno i giacobini nella madrepatria fanno i colonialisti nelle colonie e amministrano le colonie non attraverso l'uguaglianza ma attraverso la differenza. Le tecniche di comando inventate nelle colonie rimbalzano nella madrepatria che si va formando una spazialità conflittuale fra ceti dirigenti e popolo lavoratore. La gestione dei lavoratori, visti come potenziale pericolo per l'ordine, sarà una gestione straordinariamente simile alla gestione coloniale. Proprio con rimbalzo di tecniche da una parte all'altra. Gli amministratori coloniali, quello che fanno, quello che dicono, quello che suggeriscono, segmentare lo spazio politico interno delle madrepatrie per evitare che quello spazio politico interno sia non lo spazio liscio della cittadinanza, divenga lo spazio del conflitto di classe.